Disegno di legge sul gioco d'azzardo patologico, è stata presentata questa proposta nei giorni scorsi, il perché di questa iniziativa? Perché è un grande male che colpisce un gran numero di persone, solo in Abruzzo 17.000 persone sono colpite da questa gravissima dipendenza da gioco appunto, che aggredisce la questione finanziaria di tante famiglie, però va oltre perché compromette l'equilibrio anche emotivo e dei rapporti familiari e pertanto è una grave patologia che va affrontata. Negli anni addietro abbiamo con il piano della prevenzione, quando eravamo al governo regionale, per la prima volta messo all'agenda pubblica anche delle iniziative sulla prevenzione questo grande tema. La legge che presenta il centro-sinistra oggi è rilevante in quanto è una legge di sistema, per capirci cosa c'era prima e cosa ci sarà se venisse approvata questa norma. Prima vi era soltanto l'autorizzazione per i cosiddetti luoghi sensibili, cioè la distanza alla quale le sale da gioco o le varie tra virgolette macchine da gioco dovevano essere o potevano essere installate. Oggi oltre a questo noi andiamo a disciplinare tutta una serie di iniziative che vedono coinvolti regione, asle, comuni, associazioni e persino gli esercenti. E chiediamo alla Giunta di elaborare annualmente un piano di iniziative sulla prevenzione, sull'informazione, la divulgazione e poi laddove c'è il problema aggredendolo con le reti cliniche, il problema, cioè già di chi risulta chiaramente affetto, questo piano di azione annuale, cioè si ripete ogni anno e il Consiglio regionale convoca un'apposita commissione prima per approvare la proposta di Giunta e poi per valutarla una volta monitorati gli effetti e le iniziative. Oltre a questo noi mettiamo in campo altri due momenti di particolare comunicazione e divulgazione. Il primo, diamo la possibilità agli esercenti e agli esercizi che vogliono rifiutarsi di installare le macchine da gioco, il cosiddetto logo esercizio no slot. E secondo, ogni anno una giornata apposita di divulgazione delle iniziative fatte, dei risultati ottenuti e di quello che si potrà mettere ulteriormente in campo. Ecco perché è una legge vera e propria di sistema che aggredisce il problema e noi appunto auspichiamo che il governo regionale possa recepire questa proposta.